Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al Red Nazionem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile. Con la nuova normativa e quindi con l'unificazione dei due esperimenti d'asta con incanto e senza incanto in un unico esperimento d'asta, il prezzo base e l'offerta minima sono né più né meno che l'abbattimento uno dell'altro del 25%. Per la partecipazione all'esperimento d'asta è consigliabile quindi ed è indicato anche nell'avviso d'asta che l'offerta minima deve essere necessariamente il prezzo più basso, il valore più basso espresso nell'ordinanza. da lì si partirà per l'offerta anche perché in assenza di altri competitori se noi riusciremo a fare un'offerta con l'offerta minima e quindi col prezzo minimo risulteremo aggiudicatari.